La crisi economica sta investendo ancora il nostro paese e per questo la Commissione elettorale comunale ha deciso di dare un'opportunità ai cittadini fanesi disoccupati, inoccupati e studenti non lavoratori in vista delle nomine degli scrutatori. In particolare è stato ribadito che il 50% degli scrutatori effettivi più supplenti sarà nominato tramite un sorteggio tra coloro che, già iscritti all'albo degli scrutatori, si trovano nella condizione di disoccupazione, inoccupazione oppure studente non lavoratore. Il restante 50% degli scrutatori effettivi più supplenti sarà nominato nella Commissione stessa per garantire la presenza di un'adeguata professionalità nei singoli seggi elettorali, ma anche in questo caso coloro che saranno individuati direttamente, oltre ad essere iscritti all'albo degli scrutatori, dovranno trovarsi nello stato di disoccupati, inoccupati, non occupati, studenti non lavoratori. Pertanto tutti coloro che si trovano in una di queste condizioni per poter partecipare al sorteggio dovranno presentare un'apposita domanda all'ufficio elettorale del Comune di Fano entro le ore 13 del 29 gennaio. Inoltre dovranno utilizzare l'apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Fano oppure disponibile direttamente all'ufficio elettorale. Sarà poi l'ufficio stesso a verificare le domande presentate prima che la Commissione elettorale si riunisca in una seduta pubblica per il sorteggio e per la nomina degli scrutatori. L'incontro avverrà in un giorno compreso tra il 7 e il 12 febbraio, ma la data precisa sarà resa pubblica solo due giorni prima. Grazie.